bella ragazzi che faccio su instagram francesco bichi parla il tuo canale youtube se volete frangam21 oggi raga faccio vedere un nuovo progetto il prossimo video che devo restare se ce l'ho qui sotto questo però questo video sto facendo oggi ma il prossimo la monta ma per vedere questo progetto che guardate fino alla fine se potete vedere che bisogna raga che dico in questo video una bella monta bike con 24 raga questa è l'inventità ora qui non so che colore devo fare già visto che devo fare una due tre quattro nere l'operatoria non lo so da questo colore o cambio colore voi iscrivete ecco mentre poi c'è la colore migliora come la spesa da ora raga ripetendo la beach poi noi ci vediamo un prossimo video ecco il collo qui l'ho ecco l'ho qui l'ho con la parte di la musica raga Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti